Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Una grande emozione per il città di Teramo 1913, oggi tornare per la prima in casa il Gaetano Bonolis contro il Ponte Vomano dell'ex Rinaldo Cifaldi. Lo ha sottolineato anche il tecnico Marco Pomante in conferenza pre-gara. Sì, sì, l'emozione c'è, l'emozione c'è da parte mia, da parte della società, da parte dei giocatori. È normale, fa piacere tornare qui, anche per un semplice allenamento, però l'obiettivo è domani. Speriamo che questa emozione la trasformiamo in carica positiva, perché domani ci aspetta una partita importante con una squadra organizzata, quindi speriamo bene. L'appuntamento dunque per oggi pomeriggio alle 16. Il tecnico Biancoros dovrà rinunciare al difensore Christian Cangemi, che non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia sinistra, e la prossima settimana dovrà sottoporsi a tac, mentre il centrale Alfonso Pepe lamenta ancora qualche fastidio al torace, ma stringerà i denti per essere in campo dall'inizio, anche se il giocatore non si è sempre allenato in settimana. Il pubblico del Bonolis e i tifosi sono compatti oggi e pronti per aiutare la squadra. Anche Teramo Sezza ha deciso di sostenere i propri beniamini, non rinunciando ad entrare al Bonolis, con un comunicato che recita, perché una volta che il Teramo Calcio ha stipulato un contratto con Iachini, non entrando priveremmo la squadra del sostegno e la società dell'incasso, mentre Iachini i soldi li prenderebbe lo stesso, perché non può essere Iachini a costringerci a restare fuori dallo stadio, che porta il nome del grande Gaetano Bonolis, simbolo di attaccamento e passione per il Teramo, recita il comunicato. Perché continua il comunicato? Non vogliamo giocare senza tifoserie le partite importanti, perché riteniamo che qualsiasi protesta possa essere fatta in qualsiasi momento e modo, anche all'interno dello stadio. Auspichiamo dunque, conclude la nota, che scelte diverse non portino a divisioni.